Cari amici, siete dei solisti? Avete una band? Avete voglia di far conoscere quello che sapete fare, la vostra musica? Allora fate come tutte le band che già sono stati su questo palco, nei nostri studi, a realizzare un video. Adesso sono in giro a far vedere al mondo intero cosa sanno fare alla grande. E allora fate come voi, Special One è un format unico, nato proprio per dare visibilità alle persone che come voi hanno questo grande desiderio. Guardate tutti i nostri video, cercateci, siamo sul canale YouTube Special One Max David.